siiii uno qua in... co... co... su pinga e in altro al solito e poi se ti dice che buchi fare mica li fa lui o li fate voi? dai dove mi fa lui no al mira lo... si si dove hai pingato bravo vuoi l'iterra variegato qua davanti? Sì, qua, regà, una barricata Sì, qua, qua, al solito No, no, qua davanti Vai, vado sotto, regà, vado sotto Ho messato Faremo un po' di silenzio Boh, tre, regà C'è un po' di silenzio Ah, c'è un po' di silenzio Ok, sto io sotto Mi sa che droga, non ho sentito uno che ha preso il droga Uno che guarda la camera, così capiamo dove arrivano Sì, guarda tutte le cam Tenzi, regà Bravo Abbiamo un ping, c'è il C4 IQ Bravo Bella Sto sotto, eh, sto sotto fino alla fine, regà Sto tengo sotto fino alla fine per evitare il flunt Gridlock qua davanti a me, gridlock qua In... Archivi Davanti a qui Ok Vabbè, vabbè 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 mario no da me la vera bomba 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 la famiglia o l'audio baggatissimo regalo l'audio baggato l'ho sentito dietro di me lo sentivo a a mi sa che devo dire la play dopo raga ieri michael mi ruba no davvero chiudere gioco per aprire le boss no no fraco ah vero davvero che è il gioco però mi sembra che una volta avrei avviato la play andiamo a cantiera no raga proviamo prima due canali proviamo due canali vai proviamo due canali faccio le bozze le faccio il solito spawn kill no faccio le faccio chi prende raga caid va bene si fra va bene il caid ma uno jager uno jager povero michael ma va forza uno jager mi rubo il meno proprio una sfortuna incredibile sai non volevi proprio che schifo mamma mia sei proprio scarso non si può usarlo jager non si può usarlo jager rincula tantissimo raga ma la conda è che non giochiamo tutti e cinque insieme cioè da giustizio da più di una settimana cioè un manca un giorno l'altro uno l'altro è tutta colpa di niggio eh parola mi fai un attimo il ping qua cioè mi ping continuamente qua due minuti aspetta un minuto trenta secondi venticine spottateglielo voi spottateglielo voi raga spottateglielo voi qua c'ho fatto c'ho fatto a posto a posto grazie raga un attimo di silenzio ok un secondo di silenzio che devo sentire se mi arrivano di qua metri qui dietro poi ho l'audio baggato mi sa stava baggando raga silenzio un secondo un secondo un c4 est qua ci penso appena entra la finestra eh no no ho usato per le botte io poi niente non c'è nessuno raga un po' più zitti si vale ne andrò naso asha sicuri non spot perché se lo tira c'è qualcuno principale merda fuori bacchettato fuori 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 dove rega dove 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 lingue fuori dalla bomba piccola ho l'audio bagatissimo ho l'audio bagatissimo non capisco dov'è bag sopra lingue prete fuori eh no rega non ho l'audio bagato ok Michael ah cazzo non l'ho visto rega sta partito l'audio bagato difensori eliminati missione fallita eh adesso tipo non sento il replay sicuramente poi non sentirò il drone tipo non sentirò quando sa eh adesso ormai no provo magari deve stare interno ma va fra eh fra è un suicidio andare fuori cazzo senti eh ma vabbè dove qualcun altro che venisse ci vado io andiamo in due mi è male io sono in bagno con te bagno? ah ok yeager yeager raga fermata yeager cazzo sono per prenderlo scusate hai hai l'era col pompa eh vabbè sei cancrissimo difendete le bombe anche da lontano sollevamo in 50 di video vale vale barrica barrica le botte le barricate le sto barricando le botte mi saranno altre due barricate però quella di di armadietti questi qui guarda quel lì posizione bomba compromessa regolar figlio regalo yeager ci si arriva qua assolutamente eh lo so questo lo possiamo rinforzare questo regà questo ce l'abbiamo rinforzo che mi doppia mi viene da est ma è sto sotto ma è sto ma è sto mamma mia regà non capisco nulla mi viene da est no oh madonna me lo sento se vedo che mi stanno inculando vieni non ti basso non ti basso nessuno basso da dietro perfetto o ditemi dove stanno perchè io non capisco nulla bravissimo ho messo lo scudo dove mi raccomando regà ditemi dove stanno sento qualcuno mi sa c'è non so dove zittra zittra dietro no ho sentito spaccarono barricata no la finestra la finestra l'ho sentito un drop ragazzi zitti 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 Mi raccomando No, me l'ho spiato, cazzo Va bene, va bene Sei interno, te Asce, icchio Sento nulla, eh Vai, abbia al volo, raga Tenete al massimo, eh Dai, 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 dai È entrato, è entrato Un operatore alleato rimasto Avete perso? La squadra d'attacco ha attivato un disinnescatore, va disinnescatore Fran, Fran, non devi darla kill Che palle, non devi darla kill Come facevo? Eh bro, non lo so, bo, ti nascondei, vabbè Forse, no Ma sai, era dentro, li stavano inculando tutti e due a parte Non riesco, raga, non riesco ad entrare Eh no, sono ancora legge attentamente Vediamo No, raga, non riesco Che palle, figlia, che bel gioco Mamma mia, porca troia, che palle Eh, non c'è Eh, non c'è Eh, non c'è Abbiamo tolto noi Dio porco, dio porco No, non è entrato Dio porco, che palle Non c'è entrato Non c'è mai il gioco di merda Gioco di merda, porco dio Venga, ma il touch, il touch, il touch, il touch Il toucher Mentre le teste Che palle, che palle Ce l'hai fatta Ce l'hai fatta Sì, ce l'hai fatta Che c'è Mi ha dato rado Fio Ah, ci so Com, no Con un rumore Gioco di merda Gioco di merda però Gioco di merda Fatto male Fio, mi davano Mi davano back Fio, volavo Ah, vedi Fio, full team Dai, dai Sono scarsi questi Non avevo l'audio Regà, non avevo l'audio Ovvio No, erano Erano rati Ora se non sento il drone Devo riavviare la play Dopo Dovete usare il drone Vai, lo sento il drone Non dovrebbe essere bugato, giusto? No Ma? Ahah Che bello avere Già, io ce l'ho già in un anteprima Io ho perduto De l'anno 5 sui box Dovebbero essere OP Tipo Dipendono uffici Ok Ci sono esterni Figa, dove sono tutti Ma? Ufficio Dipende un ufficio un botto Guarda che Ma è colneo OP 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 Perché ha praticamente E' un'errore Chegato Dipende un ufficio Con l'anima al cuore E la mamma Vado da Da passaporti Destra non sponchillano Attenzione Un pro Lascia il drone Ricarico Copritemi Brono sotto Bagno libero Sono entrato Passaporti Guardo est Ho aperto Ragalmira Nemici Raghi salgo est Com'è Michael? Raghi silenzio Silenzio Ragazzi Aspetta Passaporti Mi metti davanti la porta Michael Non ti muove da lì Sono est Sono est Ragazzi Sto in est Sto in est Un passo indietro Un passo indietro Bravo Sto in est Riusci ad andare verso Sì Caite se si spostava Vai 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 Caite se si scade Ma la Potete andare Forse al plant Bravo Non andare al plant Non andare al plant Su scale Su scale Lo smoke Raga Scale smoke Ci sono io per copro Vai 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 Michael A terra Mi sa Ci sono io per copro Vai Bello 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 Ho sapeva un c***o Pensavo di avere ancora Dato due bagate Invece sentivo bene Raga Cioè mi ero già abituato All'audio Figa Bene Non ho fatto un c***o Prendo il bug Per sicurezza Eh Riprendi l'ana Eh si Touch Sì si Riprendiamo quelli di prima Secondo me va bene Maverick c'è stato utile Ho fatto valchiria Però anche poco Cioè con l'abilità Per riscaldare Mi muovono E' più veloce Ho visto che abbiamo il touch Magari è più easy Dovete usare il suono Per trovare una bomba Speriamo che vado uno giù Che bello è C'è lì Lo sciopero subito Ah no Perché viene sempre No Stanno cantiere Regale Dile Dile Cantiere Dile Ottimo Vado Passiamo il solito Regale Facciamo il solito No Entriggio Le camere Sempre Andrest E Voi due Magari Prendete Le armadette Così prendiamo Sopra Non ho capito un c***o Regale Ripetete Ste Tu il solito Stanno sotto Ste Ok Eh però devo fare le botte Ah vero Regale Riesci ad andare Te Joe Da S Provo Vai Tini S Io ho entro Telecamere Ho sbagliato Mannaggia la mamma di se Oh hai rotto il c***o Come madre Mannaggia tua madre Scusa Scusa Con tuo vocabolario Ste Cannato Frò Cannato Non capita a te Di sbagliare Joe Ma si è sponato male Mi sa No Passato qua Passa l'altra parte Stai tenendo No bro Ho detto se puoi passare a est Ti ho detto Eh Est Stai l'alto No Broderino devi stare calmo Broderino Copri però Non stai coprendo È un attimo Non vedi che ti stai vendo Sì stai vai con loro Che devi andare a fare bottele Drone CCTV Telecamera è pulito È pulito Dentro le telecamere Se va via lo prendo io Guarda Guarda su ufficio È sempre armadietti Sempre armadietti Sei entrato Joe Sei entrato Sì Vai Tieni Aspettalo in ufficio Aspettalo fuori ufficio Giù Sì Vai 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 Fallo scappare Fallo scappare Fallo scappare Buono Mi copro io Arati Vai verticalizza Verticalizza Vai inizio a rinforzare C'era il push C'era il push C'era il push Eccolo Sprecato Sprecato Ok Ricazzo Scopri scale Nuovo caricatore Dove 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 è andato Si riesce a scendere Polso è preso Stai scendere Atrio Stai da fuori Però posso entrare Della bomba Se volete Entra Entra Droppa Droppa Non c'è nessuno Vai Michael Entra anche tu Porca troia Non ci credo Jäger Bomba piccola Jäger piccola Non puoi scendere L'ultimo è da me L'ultimo è da me L'ultimo è da me Andate a plantare Vai 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 Planto 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 È in bagno Copro 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 Sopra Fra è in Corridoio Bello Bellissimo Rega Polito Non sta a fare un cazzo Madonna Sì 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 assolutamente Io penso che pursa che stavo flancando Dai dai Eh riprende l'ibana Come ora secondo me va bene Eh sì Più headshot Lì in ufficio Sì boh Erano tutti e due lì Farsi i giretti No Con Reflex No Ah beh sì sì Mi chiamai con lì Frost Ahah Pia rip Non te l'avevo visto Ti giuro non l'avevo visto Sì che cazzo da pensare Gli Frost Voglio trovare una bomba Ma che piafro Chi vuoi che piafro nel 2020 Ma infatti Ma infatti Lo dico sempre anch'io Ancora sono sopra adesso Vai passo da sotto Passo passaporto Vengo con te io se vuoi Se hai bisogno Ru Se vuoi passa Magari doganare Passa con te Kaid Ma non so che sia Ru Ah Eccolo Ah Fia Ha tantissimo Bello sarebbe Bello E come si Elite Però se lo ballano Sempre Ma adesso mica L'hanno detto Che lo fanno più forte Cioè hai detto Che le avevano messo L'impatto Cioè incredibile Sì Hanno toto lo scudomobile Hanno messo l'impatto Sì Ma anche a questo Gli hanno toto l'impatto Sì Vabbè c'è il pompo Cioè il pompa Magli gli mettono Tipo le quelli Di turbato di frequenza Però ho bruciato il drone Vabbè Drone bagno Drone bagno Est nessuno Ok bagno pulito Attenta est Sportelli pulito Est No ma no Vivo qua Ru Vai 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 però Ti fao bro Aspetta Ti drone Ottimo Oh fra hai fatto Un distrutto qualcosa Bravo Io vado est Vado est Se vuoi Sare i principali Va io passo est Che è pulito Ho preso est Raga Fatta Non so se stanno esterni C'è la cam di bulk Uno che mi drona dentro Donate 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 Tengo est Tengo est Giusto Che stai facendo Giusto Vai rompendo Un po' le cose Aspetta Aspetta Michael Ah no Scusi Michael Non ho l'altra bomba io Non è per ora niente Frank Raga non riusciamo a spaccare Ok Inizio a entrare Michael a rompere le palle Dai di qua Caità da bomba Municipali Scendo scendo Mi son troppato Raga coprite coprite Raga coprite Copro da sotto Copro da sotto Copro da sotto Raga Non ricopri Un attimo Un attimo Fra Stai calmo Dove è caito Tengo dal kill Tengo sotto Tengo sotto Raga Vinta Raga Vinta Bello Raga Bellissimo Bellissimo Anzi Non ho fatto un cazzo Rage qui Ma vai trasse Arata Arata Io ho preso Plantato e ciao Arata Arata 016 016 016 Ok Ok Dai vabbè essere il soggiorno no Dai Su Invitate in lobby Perché io son Cioè sono dovuto uscire Ma chi è il cazzo Eh raga Non so che capo Eh boh vedete Se vuoi Non lo so No no Non lo so Ti fa Ok Vinta Allora Boh Siamo a sette vittorie Devo ben tre giorni Però Ci sta Di file 3 3 Siamo a sette vittorie Siamo a sette vittorie Siamo a sette vittorie Che palle oh Non si Poi hai un mese per arrivare a pagare Raga non mi ha compati punti non mi ha contato Vai drà è un bug e poi ti li conto Poi ti li dà con l'altra partita Sì Parco Eccola Eccola Italiani 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 Ragazzi stavano a fare una uscita da un bel po' Ma stavano un po' di solito con Ale la vinciamo Cioè perché Di solito la vinciamo No no di solito con Ale dico Però non c'è Ale quindi Il termite o termite 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 Solito Io però ce la vedo questo termite cazzo Eh fra Povero termite Non sappiamo giocare sta mappa Secondo me dovremmo fare difesa lunga In Ora con quello Ora con quello Con il nuovo operatore Raga Sarà più facile aprire Eh sì Vabbè sì Ma secondo me poi anche Cioè comunque Stanno dando un po' più di vantaggio Gli attaccanti Perché la difesa Cioè l'altro giorno ho visto un match Che era Hanno vinto Tutte le difese praticamente Cioè hanno vinto Solo in difesa hanno vinto Cioè neanche un attacco È stato vinto Cioè è incredibile Perché è difficile vincere un attacco Una difesa più facile Mi sa che sul 3-0 hanno ribaltato Hanno ribaltato sul 3-3 Tutte difese Tutte difese vinte Che poi hanno vinto sempre tutte le difese Ma eh Tipo in In outback Secondo me fanno bene A bilanciare l'attacco Così nel senso di dare più bridge Secondo me fanno bene Eh sì ma è destra Eh però comunque col kate devi lanciare robo Quindi lui spacca già il primo No è impossibile Perché te ne mette tre figa Ti spacca tutto Eh appunto Andiamo a armeria vai Cioè sto dentro qua Sto fuori Vai Secondo ieri che ovviamente Chi prende Eh prende il mute Io voglio cambiare Elysium Arriva raga Arriva un secondo Pallestered no? Sì Eh Devo prendere il bandit Abbiamo di tutto Non dobbiamo fargli aprire Vanno gli Hegel Vigil Sì bene Ma ste mi sa che li metti su tutte le porte Tipo no ste Porte, buchi di droni No ste Vigil puoi fare le botte là Sopra Sì quello lì In vicino alla palantina La botola L'hai sentita Ok ok Ah ste ma tu metti I jammer sulle porte Sui buchi di droni Così io cosa fai? Ti metto su barricate Te? Le granate ormai non sono più un problema Ma ste Ah fk Ah ok Fk Si attivo in posizione Vai rinforzi qua Dove lo volete rinforzo? Niente metti i kai perché ste Non è 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 Te lo sto dicendo da mezz'ora Se è inattivo Vedi ci sta vicino a me perché se ho bisogno di uno doppio devi essere veloce perché se mi chiudo sono morto In realtà c'era il toucher quindi se li mette sulla porta non c'è un cazzo Vabbè Jager Jager Vabbè ma almeno spiegano i toucher no? Vabbè due di Abbiamo tre muri abbiamo Stai già a brandina io sto in ufficio qua Stai già manca due jammer in un buco droni ste Sto buco qua Buono Stai hai due jammer mica ste Si Barili Guarda uno qua Arrivo Bravissimo Uno qua Sto con te eh Sto con te Cosa 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 Eh no no Vagano silenzio silenzio Bridge Bridge Iban a barili Eh devo andare Devo andare Devo andare Barili Mi sta fuori i barili Non lo so Vai Michael vai Bravissimo No è toucher Stanno barili Stanno barili Buona morte Bravo Sempre in barili Sempre in barili Fissi Non mi muovo Scappo 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 Posso entrare? Vale sono due Uno sulle scale vale Non quelle ma le altre Il nomad Barili posso entrare? Resistete due secondi Ok si si vai tra Io sono sopra Quindi mi troppo da sopra Aspetta due secondi Uno sta in barili Sono tutti due barili Ok Siamo a 15 secondi Siamo a 15 secondi Siamo a 15 secondi Ultimo attaccante rimasto in vita Restano 5 secondi Restano 5 secondi Siamo a 15 secondi Siamo a 15 secondi Anima di farlo diviso non ti piace un cazzo però Un bendit Un Jager Mi potrete lasciare Valkyrie Grazie Ok Jager Giù È il tuo È il tuo un mira perché qua si può mettere un mira figo adesso mi è venuto in mente un mira fighissimo vai faccio la rotation qua iniziazione io metto zona ufficio metti uno jager qua iniziazione aspetta il ruolo a chiudere qua dove lo vuole lo jager qua l'attivation faccio io un attimo raga rinforzate qua il bagno raga rinforzate il bagno metti un rinforzo qua meglio raga un rinforzo qua per evitare wallbang un secondo qua io ti barrico qua lo ne da iniziazione se vuoi e vai barrica qua e allora principali le fasce dove 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 qua qua una manca metti melo qualche ass guarda vai 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 mi raccomando io non ruoto mario cc4 mario cc4 botta l'iniziazione botta l'iniziazione non conti se mi passano da base sono io hanno usato iban hanno usato hanno rotto già questa cosa anche lei l'hai tolta tu vai giu vai giu c'è ass c'è ass calmi calmi iban si è droppato in telecamere in server si è droppato in server giralo in server in server fisso fisso server non posso piccare fran lo prendi lo prendi sdraiato Gio aspetta lo so Gio non posso più piccare io sono qua attenti rega attenti qua Michael attento qua in fondo da me in server vai flank tu Gio bravissimo attento botta da Gio ok ok tengo io dov'è? dov'è? eh vabbè è entrato un'altra bomba pure bravo? no non l'ho fatto merda fessore fammelo due di vita Ash Ash 50 HP avanti te vabbè 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 andiamo droga andiamo droga vado fuori secondo me quella difesa lunga è inutile no ma fra non è quello sono entrati dal bagno sono entrati da davanti cioè l'abbiamo tenuto bene poi lì se l'abbiamo chiuso quello che è entrato la difesa lunga ma infatti eh un giocatore si mette sempre lì e ce ne manca sempre uno vado di vicino faccio ah no devo rinforzare dentro non ci quota se lo aspettano questi tanto non ha senso eh sì lo so raga raga però prendete gli operatori ok Giorno ma con ira non è che ti funziona tanto perché lo prendi sempre mi piace non so come eh ma boh la maggior parte delle volte non è che funziona no secondo me dovresti togliervi il pompa occhio la posizione di una bomba è compromessa le granate ormai non sono più un problema io l'ho spinato in campo arrivo l'avevo già inforzato ci vuole dove? arrivo vedi se le spin le vedi che le metti in giro via si vedi ci dov'è rompa la mappa non si sarà da dire mancano 5 secondi bomba localizzata line in volo non ci sono da fuori rotolo il disurbinato ads pronto e attivo dispositivo piazzato as bagno eh di già entrata no no è eri che sta dronando ok penso un dragone dimmi se hai bisogno occhio sopra ragà occhio sopra va io salgo io salgo as io salgo mario guardate un altro vicino a bagno a me ok vanno a dove? vanno a barili da me raga bisogna una mano doppiale tu doppiale tu che sei più vicino mario sta porta corridoio corridoio bagno non lo so sledge buono uno è fuori uno è fuori è fuori all'erro vieni in cerca e se tu... questo è sotto ah sì 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 è fuori mario barili qualcuno dov'è dov'è? bravi vai conferma conferma confermate vai vai dov'è l'ultimo? bello preso ho la pistoretta raga sono troppo forte non tappato? ah potete non tapparlo secondo me ti usciva un one tap esatto poi l'avevo anche talo ste quindi l'abbiamo al touch sì sì colpendo io un ibana raga con le flash eh se io direi andare anche di granate se ibana 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 ho uno con le fumogene raga eh ho preso il nomad in realtà vabbè Michael ti ho chiesto ti ho chiesto l'estunto ho chiesto vabbè eh lo sai che qua giochiamo così vogliamo individuare una bomba vabbè entro relax saranno armeria vabbè ho ben bisogno del pompa di ehm di jackal per fare i buchi sopra però abbiamo bisogno anche delle delle stelle delle stordenti ce l'ho io ok dobbiamo prendiamo sopra poi andiamo barili a briciare eh prendiamo sopra e andiamo barili no hanno messo un ehm cazzo chiama maestro fanno rotation ho sentito una un impatto un impatto in barili attenti della botola sopra ah ok non lo so hanno messo maestro doveva passarlo si hanno fatto la botola da solito va vengo con te coprita eh magari quello si troppa chi è nomad? io stai vieni con noi sopra jager su corridoio jager corridoio eh fra non lo so c'ho la jager su corridoio jager su corridoio allora ne ho un altro ne ho un altro in corridoio mi sa eh io giuro da ufficio allora un attimo un attimo drono un secondo per andare al bridge un secondo non andate di touch dei bar un secondo posso entrare qui in bagno ma è tutto libero è tutto libero bar è tutto libero vai 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 passo non ne ho eh abbiamo stun abbiamo stun aspetta posso fare il maestro dov'è dov'è il maestro ok raga vai pompa 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 qua coprite dietro coprite dietro io ti copro ma ero uno da ufficio attenti c4 c4 attenti uno che copre dietro raga dai raga raga ok un attimo il toucher toucher raga copri dietro stai copri dietro stai copri dietro stai spè spè vai dov'è 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 da dove da dove posso verticalizzare la remeria eh non lo so una delle due vado ufficio io ho rotto botola eh abbiamo un esterno mi so com'è la situa michael hai passi? no si può entrare qui? maico copri 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 micael eh no quel cazzo non c'e' più robe eh non ci abbiamo più drone raga non riuscite a entrare? eh non ci abbiamo droni raga aspetta dove lascia il drone dove le trovano a lì dove le trovano abbiamo i seri mancano 15 secondi vaffanculo vai provate prova ai colai inserisci michael vai 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 plant plant no bro non tutti sotto copro barili copro barili bravissimo copro barili copriamo copriamo michael hai messo troppo lontano però ricorda storia stavolta di riscaldò aspettando era capo rubano 15 miliardi non fare michael è messo troppo lì lontano non riuscivamo a inserire ci sarebbe un bambino vabbè è ben chiamato per un drone vanno una rega dobbiamo aprire iniziazione secondo me andranno asilo andranno ma faccio direi boh spagnolo dietro dai dai ho sbagliato lì dovete usare il drone per trovare una bomba ma secondo me se lo facevano non stavano coprendo proprio lascio passo da sotto dal laboratorio appunto sto vado proprio per quello al chilo l'ultimo ha messo c4 sotto si si vado a farmelo io al volo oh bella mira brotherino voi passate voi si andate là mi sa che devi passare con loro giù perchè devi mettergli la clima coprire il rank il drone del naso porco dio ok il drone è il eh voglio dire vabbè quello drone sempre cambio caricatore vado da botta là sopra io monta monta c'è lo jager silenzio raga silenzio silenzio no uno qua sotto silenzio va chiuso sinistra in bagno uno sinistra in bagno lo vedi michael non si li inserà oh che Diego è andato sola buono valche bandit arriva raga arriva raga raga vado a fare il c4 vado a fare il c4 un secondo ah no si era messo sotto per buttarlo va mi copro io Raga, dronatemi sopra, dronatemi sopra per capire dove stanno, perché sennò io non mi muovo Aspetta, drono, io ho l'obiettivo, aspetta Vai, vai, drona, drona Ah, questa è appena aperta, questa è Allora Com'è? Mi maestro, sta dietro qua Controllo dove... Allora, legion, legion, legion in bomba Legion in bomba, presa Legion qua, spot legion, spot legion Fattelo, raga C'è la Claymore, tanto non può passare Raga, ma dove sta l'ison? In bomba Sicuro? No, corridoio, 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 corridoio Scutami, corridoio Michael dov'è? Michael vai al plant Jäger sotto, Jäger sotto verso il dragone Vai al plant, Michael, vai al plant Vai al plant, vai al plant Planta Stai alle tue scale a destra, quelle scale là in fondo Sì, sì, sì Attento da porta, da porta, coprilo Planta Tieni se Tento bomba Abbiamo un drone sul corridoio tipo L Uno scale main Jäger scale main Raga, scale main Qua, ping, ping, ping No, niente, da Michael In videogiochi tipo Buono Eh, bello Madò, raga Cioè, tipo C'era uno Cioè C'era il Valkyrie che mi ha collaso Mi volevano doppiare L'hanno preso in culo Sì, sì, ti giuro Sì, sì Mi stava venendo a doppiare, no? Prendo Cosmi Giro Prendo Valkyrie Boom Doppiami sto cazzo, coglione 5-1 E sono l'ultimo Ok, campione Ok, campione Sì, Michael Ieri, cosa devo dire? Rubavano le kill Filippo Eh, devi andare a culo, droga Non voglio dire, raga Del tazzo prenderlo sempre, secondo me Ci sta Eh, vale Michael, te prendi il montaggio Ma non prendi il dizzy Adesso glielo devi dare test No, no, no Te sei meno in lontagna Quindi Te se non sai chi prendere E prendi il surto montagna No, non stanno Laboratorio Vai, raga Stanno su Stanno come prima Vabbè, ma non passo da lì stavolta Non sono così ritardato Però Valkyrie, raga, mette il C4 sul corridoio Non lo mette in bar L'ha messo tipo Sapete dove c'è la telecamera? Eh, l'ha messo lì Io passo da sotto Da dragone Ragazzi, l'ultimo chi è? L'ultimo chi è? Sto spawnato dall'altra parte Spawnato dall'altra parte Se mi dà 5 euro Spawno lì Ebbè, eccolo Guarda che Runy ha accumulato vari soldi da Zara ancora Eh, ce ne manco l'ultimo Chi è? Eh, c'era qualche esterno Magari il Valkyrie, boh Venite fiuso Abbiamo il disinnescatore Runy, ora ti esco il cazzo in chat Ok Ok, boy Let's go to the In realtà c'è pure il Nomad Let's go Let's go Si, armoni, te quando devi prendere il Nomad non lo prendi Che se vuoi Jager dove? Qua, qua, dove? Dove, regà? Ragazzi, scende il Drago è mio Scende il Drago è mio Preso Silenzio, silenzio Un altro sotto, silenzio Sì, armoni, mi dà, mi dà Silenzio, regà, silenzio Sì, armoni, mi dà, mi dà Resci, le sarmi Un attimo di silenzio, regà Un altro Hai perso il disinnescatore Che palle Dov'è, dov'è Colla, fra, colla, colla, devi collare Devi collare Mi aspettavamo sotto un C4 Scale, scale, scale rossi Qua Non è qua, queste scale Smoke Raga, lagga Ma che c... Raga, no Ma che è? No, 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 si sono alzati i ping Come sono scesi Cosa? Testa? Uscio? Raga, testa Preso Ah, dice a me? Uno alla mia destra, uno alla mia destra Corridoio Il disinnescatore è di nuovo nostro Dronate, regà, dronate Fra, non c'è nessuno alla tua destra Dronate Ah, no Drone, regà, drone Drono io? Ah, drone che? Raga, non riuscite a entrare Nooo Dove, 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 dove? Dove, dove, dove? È iniziazione, iniziazione Ancora iniziazione? Sì, Valkyria Preso È mai Valkyria Pusciato, dovete pusciare Valkyria Eccola No, 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 porco È iniziazione Un operatore d'attacco No, no Sì, vamos Oh, madonna Ragazzi, ci muore, sì Ho preso il bandit in testa Che non muore, ho preso l'altro in testa Che non muore, bravo, bravo, bravo Bello, bello Sì Lo io che mi ha lasciato non sei di vita Ma dopo ho busciato il volo l'isola Ragazzi, cosa devo fare? Tu nonno, 3-5 Un po', un po' Un altro che Giornata no Vai tra Marco, non va bene sto pinga Io sono nove, però te non va bene Te Marco, diciamo di esempio di 10, 11, 12 Eh, cercavo l'anno Allora, devo mandare il compito di fisica Un attimo che faccio la foto E dici, prof, gli fai anche il dito medio O non ti mandare le foto? Boh, veda No, raga, secondo voi gli devo mandare Vai, vai a bere, vai a bere Torni, mi fa tornare il volo Ma noi startiamo adesso Cioè, nel senso Boh